Conte, parlo del Conte Presidente del Consiglio, non di quell'altro che ha fatto. E davvero, come dice Zingaretti, il punto di riferimento del progressismo italiano. Come dice Orfini, il trasformismo, giusto per te. Sì, allora, la facoltà di non rispondere. Non vorrei essere... Posso aggiungere una cosa su Zingaretti? Non ti prenderei come avvocato che tu sei un PM nei miei confronto. No, ma certo, peraltro i 5 Stelle in piazza... Zingaretti ha detto che è un errore andare in piazza ai 5 Stelle. Poi nella piazzetta San Silvestro hanno scelto una piazzetta piccola piccola. Però ricordano Turigliatto, diciamo, ricordano i tempi, per chi non lo ricordasse, del governo pro di 2006-2008. È fu il Turigliatto. Ce lo ricordiamo. Vero. E allora è un riferimento dei progressisti.